Una piazza colorata di giallo, verde, rosso e blu e quattro rioni a caccia della vittoria per l'edizione numero 15 del Gonfalone di Caira. Sabato l'evento è cominciato con le sfilate dei rioni, Colle Marino, Orsi, Lamarra e Centro Storico, che hanno dato vita ad una serata ricca di esibizioni e spettacolo. Costumi a tema, coreografie originali, balli, canti e recitazioni per inaugurare l'evento dalla durata di 10 giorni. In questa serata inaugurale tutti i rioni si sono presentati al paese con una propria esibizione, mostrando il meglio, il massimo di ciò che sanno fare. Quindi un grande ringraziamento va in particolar modo a loro per essere sticimentati in questo modo, con tutte le loro forze, in questo primo gioco di questa quindicesima edizione del Gonfalone di Caira. Oltre alla sfilata dei rioni vinta dal Colle Marino, c'è stata la presentazione del nuovo Gonfalone, realizzato dal maestro Alessandro Nardone, il tutto alla presenza del sindaco Carlo Maria D'Alessandro e del vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo. Dal primo impatto sono rimasto davvero stupito nel vedere come un'esperienza, un progetto di questo genere riesca a tenere unito e insieme tutto un paese insieme. È un evento straordinario di aggregazione e di amicizia, oltretutto di grande collaborazione perché è un progetto che durerà per dieci giorni e animerà le diverse contrade e necessariamente necessita di questa collaborazione, di questa sinergia tra tutte le persone che si mettono in gioco per poter coinvolgere tutta una comunità nell'esprimere il meglio di sé. Il Gonfalone di Caira è sempre una tradizione che ormai si rinnova da tantissimi anni, sono oltre 30 anni ed è una grande dimostrazione di senso di comunità che riesce a dare questo rione, riunito in quattro piccole parti ma che lo fanno grande. È sempre un onore per il comune essere presenti, patrocinare la manifestazione soprattutto, ripeto, per quel grande senso di comunità che si può riscontrare. Ma il sponsor dell'evento, Marmizzola. Anche quest'anno abbiamo ritenuto sostenere questa grande iniziativa per dare modo all'organizzazione e al paese di svolgere in modo più organizzato possibile questa bellissima manifestazione. È la quindicesima edizione e il mio gruppo, la mia famiglia è stata sempre vicina a questa manifestazione affinché tutto possa riuscire nel miglior modo e far divertire i ragazzi e associare bene tutte le parti sane della società per una buona crescita.